buongiorno a tutti e oggi parliamo di arduin la letteratura fantastica è il luogo dove noi mettiamo i mostri quando qualcosa è troppo terribile per poterlo guardare in faccia perché ci lucerebbe gli occhi per l'orrore allora lo nascondiamo nelle volute d'oro e d'argento in questa maniera possiamo leggere l'orrore nelle grandi fiabe classiche oltre che al dolore del bambino non amato c'è anche la persecuzione fisica dei bambini il bambino assassinato da un genitore impazzito bianca neve c'è la lentola la bambina massacrata di lavoro discriminata sulle sorelle in realtà anche torturata c'è la lentola innata in cina nell'anno 1000 è la bimba che i piedi più piccoli del reame contiene la tragedia dei piedi fasciati anser grete le pollicino i bambini sono veramente stati mangiati cannibalismo esistito davvero nella letteratura fantasy nata il secolo scorso con il signore degli anelli di tolkien e poi con le cronache di nania di lewis noi abbiamo messo l'odore del nostro secolo noi siamo il secolo del genocidio e abbiamo nascosto questa informazione terrificante in due generi il genere horror dove la cultura di morte è presente e purtroppo vincono l'oro hanno vinto la cultura di morte e il genere fantasy dove c'è uno scontro frontale tra la cultura di vita e la cultura di morte quindi l'ultimo elfo che è un libro molto carino giuro parla sostanzialmente del genocidio l'elfo è l'ultimo perché gli altri sono stati sterminati l'ultimo parla di un'altra tragedia non oso dirlo anche per non anticipare ma è un libro che io amo moltissimo e che ho amato moltissimo forse il mio libro più amato fino a quando non è arrivato arduin arduin il rinnegato è una storia terribile è una storia fatta di sangue carne e ossa spezzate lo sconsigliamo al di sotto dei 13 anni sarebbe meglio al di sotto dei 14 perché dentro contiene la tragedia dei bambini soldati tragedia autentica le cose che io ho descritto non sono state inventate anzi l'infanzia di arduin più che la tragedia dei bambini soldato si rifà la tragedia dei bambini in un certo senso terroristi suicidi e questi bambini che esistono e che sono esistiti e temo continueranno a esistere se nessuno ferma questo odore spesso sono addestrati con particolare durezza perché deve essere gente a cui a un certo punto morire deve sembrare una liberazione arduin è un personaggio straordinario arduin è un orco è nato orco è al cento per cento orco ma gli orchi come qualsiasi popolo hanno un loro peggio e un loro meglio come qualsiasi popolo hanno delle ideologie che come qualsiasi popolo possono far perdere la testa ma esiste anche un meglio esistono anche delle linee di dissidenza all'interno degli orchi sono esistiti i maghi del fuoco che avevano capacità straordinarie e avevano intuito che la ferocia degli orchi sarebbe stata la dannazione degli orchi stessi non solo del mondo arduin ha un'infanzia particolarmente feroce anche per un orco ma in mezzo a questa infanzia particolarmente feroce ci sono due incredibili linee di tenerezza le sue sorelle e l'amicizia l'amicizia con uno stradissimo orchetto con uno stradissimo bimbo orco che viene dalla dissidenza anche tra gli orchi esiste la dissidenza arduin viene salvato ancora ragazzino dalla principessa del mondo degli uomini i soldati vogliono ucciderlo la guerra con gli orchi è scoppiata i bambini orchi hanno avuto in questa guerra una parte tremenda ma la principessa dice che non si uccidono mai i bambini e qui arriviamo alla definizione di orco gli orchi sono coloro che uccidono i bambini e dopo averli uccisi festeggiano e arduin decide che lui non ucciderà i bambini arduin decide che lui si batterà dalla parte degli uomini contro il suo stesso popolo e lui va tranquillamente verso la morte lui da per scontato che morirà su un campo di battaglia ma non è la morte oh oh chiedo scusa mi accorgo adesso che dovevo metterlo nell'altro senso pardon è la prima volta che faccio questa roba abbiate pazienza la prossima volta giuro miglioro dunque eccoci qua adesso sono dritta e che cosa si stava dicendo ah sì vi stavo dicendo che arduin decide che si batterà per gli uomini decide che si batterà per gli uomini perché noi siamo le nostre scelte non il nostro sangue arduin per fortuna agisce in maniera etica ma pensa come un orco e dato che noi siamo sempre all'interno della sua testa finalmente ci divertiamo un po con un personaggio che non va tanto per il sottile è vero ma lui fa il sacrificio più estremo lui è assolutamente convinto che lui pagherà il suo amore per gli uomini per giada la sua sposa addirittura con l'eternità lui è disposto a dare la sua eternità lui passerà l'eternità nel terrificante inferno della divinità orche questa è la sua convinzione fatta di piombo fuso e fiamme ed è disposto addirittura a questo sacrificio estremo arduin è anche un personaggio che non fa parte del mondo degli uomini e che entra in contatto con questo mondo dovendoci vivere di conseguenza questo permette una grandissima parte di umorismo è un libro terrificante ma è anche un libro molto ironico e nei tatti si può addirittura ridere perché dato che viene da fuori lui trova un enorme quantitativo delle cose che succedono nel mondo degli uomini assolutamente strampalate qualche volta ha ragione lui qualche volta no è lui che è completamente fuori strada e quello che fanno gli altri invece ha un senso logico la cosa a volte ci sono cose che temo faranno drizzare i capelli in testa a tutti coloro che hanno in casa un cagnolino o micino mentre lui gira per il mondo degli uomini cercando di raggiungere la principessa questa principessa che ha salvato la vita e mentre risalvava la vita questo qui è sostanzialmente un dodicenne ma tra gli orchi in effetti tra i popoli anche nel tempo passato la maturazione arriva prima lui sia solo dei dici anni ma guarda questa principessa che gli salva la vita e già decide che lei in qualche maniera prima o poi sarà sua quando gli orchi finalmente invadono la terra degli uomini deve salvarla quindi passa per il mondo degli uomini che deve attraversare e questo deve anche mangiare qualcosa finché nei boschi non c'è problema ci sono le leperi gli scoiattoli quando deve attraversare le città ci sono le anatre perché spesso ci sono fiumi ma lui capisce che le anatre non devono essere toccate vietato allora mangia serenamente cani e gatti che non sono di nessuno evidentemente e restando solo perplesso perché mentre lui è sui tetti così nessuno li vede a farsi il suo arrosto c'è sempre qualcuno che chiama questi nomi strani ma chissà questi che vogliono alla fine la guerra è arrivata lui riesce arrivare nella città sediata dove c'è la principessa e qui trova l'accampamento degli orchi e gli orchi gli piacciono da impazzire gli orchi gli piacciono da pazzi perché sono il suo popolo lui è un orco gli piace chi siano attorno al fuoco gli piace la loro violenza il loro non avere mai paura di nulla e di nessuno gli piacciono moltissimo e per un attimo ha quasi la voglia di sedersi lì insieme agli altri attorno al fuoco a mangiare salsicce e bere birra e sui pali ci sono le teste dei soldati degli uomini uccisi e su questi pali vengono usati come ordinatori anche questo lui lo trova giusto e nell'ordine delle cose nell'ordine delle cose che gli orchi invadono la terra degli uomini e nell'ordine delle cose che gli orchi uccidano ma poi si accorge che sui pali ci sono anche teste di donne e teste di bambini addirittura di due bambine e resta lì a guardare le loro trecine i nastri che le che le chiudono e lui prende la sua decisione lì in una furia infinita perché la guerra si fa come i lupi i lupi si battono tra maschi adulti le femmine piccoli sono fuori dalla legna di tiro lì lui prende la sua decisione riuscirà a raggiungere il mondo degli uomini incredibilmente riuscirà a salvarlo è una storia che tutti conoscono già per questo la sto raccontando tanto la sanno già tutti chiunque ha letto la saga sa che è la storia di un orco che combatte per gli uomini e vince la guerra e vai caso mai qualcuno si fosse distratto è scritto sulla quarta di copertina lo sappiamo tutti quindi si tratta di scrivere un libro di cui tutti sanno le linee generali della trama questo è stato ancora più interessante che scrivere un libro da zero in primo luogo le notizie date nei libri successivi non sono state rispettate ma questo è stato fatto apposta perché non è affatto vero che la storia ci racconta quello che è successo la storia ci racconta quello che potrebbe essere successo secondo il tizio che la sta scrivendo e la nostra mente non è mai oggettiva mai quindi tutte le storie in realtà sono molto da rivedere dunque gli ufficiali polacchi chi era stato ammazzarli i nazisti che Katiana forse non era stato i nazisti forse era stato Stalin ma non mi dire tutta la storia è fatta così una serie continua di ordini e contro ordini qualche volta anche molto comici le opere di Shakespeare non le ha scritte Shakespeare ma un altro tizio eccetera eccetera per Arduin è stato particolarmente difficile scrivere la storia da parte dei suoi biografi perché lui era un orco e nessun uomo voleva scrivere e lasciare inerita ai posteri che un orco li aveva salvati quindi le storie che lo riguardano contengono sempre alcune cose vere e alcune cose false oggi diremmo fake news come oggettivamente contengono cose vere e false la totalità dei libri di storia ma anche così scrivere questa storia è stato bellissimo perché bisognava che a ogni pagina ci fosse qualcosa che inchiodava il lettore che lo tenesse lì anche Arduin ha avuto diritto alla sua storia anzi Arduin con la K e il suo nome originario alla K perché lui è un orco e sulla sua tomba lui ha fatto incidere la K la sua arma è l'ascia l'ascia è anche la mia arma preferita ce l'hanno molti miei personaggi l'ascia è un'arma femminile eh sì, l'ascia è un'arma femminile ma guarda un po' quando le linee dei militari sono crollate quando le armate dei principi generali e re sono state travolte quando le navi degli ammiragli sono state affondate restano solo le donne a difendere la loro casa e i loro bambini quando il nemico è dentro le porte quando siamo già stati sconfitti le donne combattono con l'ascia combatteva con l'ascia la mia internata a Barbara dei Mari vicino al macinaggio in Corsica perché l'ascia? perché è un'arma che hai in casa non hai bisogno di essere militare noi che abitiamo in campagna abbiamo in casa le asce anche perché abbiamo camini e camini e stufe a legna pellet è una roba da cittadini noi abbiamo le stufe a legna con i ceppi quindi le donne erano armate inoltre l'ascia è fatta con una parte di legno e una parte in ferro quindi un'arma relativamente leggera molto più leggera di una spada che è fatta tutta in metallo una donna riusciva a tirarla su e dato che il colpo è dato da un filo molto più corto che su una spada il colpo è più potente a parità di forza muscolare noi donne ne abbiamo poche con un'ascia riesce a dare un colpo più potente un'ascia per esempio può rompere uno scudo di legno una spada non ce la fa in compenso l'ascia ha una difesa è come un pugno serve solo per l'attacco non ha un filo con cui tu puoi bloccare il colpo dell'altro ha un manico di legno questo è vero che ha una discreta forza ma non ha difesa quindi è l'arma dei disperati l'arma che ti serve quando se sei sconfitto non vuoi sopravvivere non ti interessa sopravvivere se i tuoi figli e il tuo marito sono stati uccisi tanto vale morire anche tu e allora si usa l'ascia se vi interessa si che vi interessa non vi perdete questa occasione una copia di Arduino con la mia firma bisogna che scriviate alla casa elettrice Ares lo trovate su internet e il libro vi arriverà direttamente a casa quindi questa è una cosa che io ho apprezzato moltissimo ringrazio molto la casa elettrice Ares per questa prevendita ed è un libro bellissimo e se qualcuno vuol farmi delle domande posso rispondere perché abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme tra l'altro adesso sono dritta il primo pezzo di questo video è al contrario bene Michela Giardinato Mary Giardinato grave ragazze così si fa benissimo scrivere la storia di Alduin è stato un onore la scrittura è solitudine e passione e Alduin come l'Anscray è stata la mia passione per qualche mese la mia casa è stata invasa dal fumo degli incendi è stata invasa dal rumore delle battaglie non siamo più riusciti a recuperare tutti i vestiti dimenticati in innumerevoli lavanderie e siamo riusciti a carbonizzare addirittura i bolliti perché me li dimenticavo sul fuoco ma è stato un onore scrivere questa storia è un eroe straordinario grazie per avermi ascoltato arrivederci a tutti e buona giornata